Musica Ehm, buongiorno a tutti per i miei e benvenuti in questo video Come sempre sono Tecnoid e siamo tornati ragazzi In un nuovissimo mini gioco Su Rocket League con Cat, Shampoo Ciccio, Abdelà, Ninja E Adam, salutate a tutti ragazzi Bella, ciao Belli Ciao Belli, oggi andremo a fare Un nascondino con la spia Su Rocket League in una mappa Personalizzata, perciò, quello che dovrete Fare sono due cose, innanzitutto lasciare un bel Pollicione in su, seconda cosa scrivermi Qui sotto nei commenti qual è Il prossimo mini gioco che vorreste vedere Su Rocket League, detto ciao ragazzi Voi siete pronti? Pronti E let's go Per il nascondino con la spia su Rocket League Mamma mia ragazzi Eccoci qua, come state vedendo Questa è la mappa di Minecraft dentro A Rocket League, scrivetemi qui sotto nei commenti Se state riconoscendo Quale mappa di Minecraft è Questa cosa è per pochi Allora ragazzi Io mi andrò a mettere a bordo Mappa E quello che dovrete fare voi E andarvi a nascondere Vi spiego velocemente come funziona Il nascondino con la spia È molto semplice Ogni volta che troverò uno di voi Avrà due opzioni O Farsi eliminare Facendo l'uomo d'onore Oppure fare lo snitch Portandomi entro 10 secondi Da un suo compagno Detto ciao ragazzi Vai Partite pure Io mi metto al bordo Che non vi vedo nemmeno Ragazzi parto tra 3 2 1 Via Ok sto per partire Innanzitutto Per cercare di trovarvi Devo assolutamente Crearmi una mappa mentale Perciò come vedete Abbiamo zona rossa E zona blu Perché questa mappa È all'interno Di un campo gigante Di Rocket League Quello che voglio fare io È iniziare Prima di tutto Dalla zona rossa Però prima di iniziare Mi faccio Un giro Completamente In cielo Per vedere se qualcuno Di voi per caso Si è nascosto In qualche posto strano Ragazzi Magari Su qualche tetto Mi era sembrato Di aver No ragazzi Ragazzi Mi sta morendo Da ridere Ragazzi Ne ho visto uno Ragazzi Mi dispiace per lui Che l'ho visto Sai perché? Ho visto il tuo nome Che si è Buggato dal tetto Da dove si entra? Allora lui È qua dentro Ragazzi È sotto Alla tettoia Eccolo là Ho capito Come ha fatto Eccolo come ha fatto Il lezzo Ciao bielo Ciao bielo Ciao Adam Ciao Scendi giù Adam Scendi giù Vuoi fare l'uomo d'onore Oppure vuoi portarmi Da un tuo compagno Uomo d'onore Vieni vieni Uomo d'onore Quello si chiama snitch Dieci Nove Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Uno Adam Vieni qua È giusto Addio per te Adam Quitta dal game Mari non si può spegnere la macchina E uno ragazzi Uno in meno Perfetto Cinque rimasti ragazzi Controlliamo Mamma mia ragazzi Ci sono dei punti davvero Che se li vedete Vi spaventate proprio Ma che è un dungeon Sto coso Come faccio a salire lì dentro Ah ma c'è la porta d'ingresso Ragazzi C'è qualcuno qui per caso Raga Ma qua c'è qualcuno No qua raga Mi sa che non ci sta nessuno Perché ho controllato E sembra non esserci proprio nessuno Perché c'è il tetto poi E tutti i lati sono uguali Non c'è un doppio fondo O roba strana E questo punto È appena stato controllato Pensate un po' Perfetto Adesso entriamo dentro Alla casetta Kat ma Non è che sei qui dentro Tanti non mi appaiono Che sono nel punto più Impensato Ma che è qua Numaco Merlino Aiii Che ho trovato Ma che è Oh ma come Sei attaccato lì tu Oh Ma che sei tu Spider-Man I'm Spider-Man bro Scendi giù Lezzo Ascoltami Vuoi fare l'uomo d'onore E vuoi portarmi Da un tuo compagno Per avere salva la vida Un ninja rojula L'ultima volta che ho visto Katena qua Vai dieci Nove Otto No 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 Non mi dire che è dietro alla porta Non mi No no ragazzi Io mi spavento ragazzi Non No 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 ragazzi No ragazzi No ragazzi Ma cos'è No No raga Ma che Ma che sei tu Era un gecko No Ma si può andare dietro la porta Dai Peroni Addio Kat Il tuo game Finisce ora Quinta dal game Grazie Vai ninja Vati pure a rinascondere Vai vai Voglio snicciare Ah si Dov'è che sei Abdelà Ho capito cosa vuol fare Abdelà Abdelà sono a centro mappa Eccolo Ho trovato Abdelà Abdelà Vuoi portarmi da un tuo compagno Per aver salva la vita Non è Abdelà Abdelà Oh Abdelà Ma non è che esci E poi muori Quattro Tre Due Uno Stop Abdelà Cioè ti giuro Hai fatto un'atomica Addio per Abdelà Tu mi hai detto Che shampoo era lì Shampoo vuol dire Che è in sta casa Perché sennò Abdelà Non avrebbe senso Che mi è venuto a cercare così Adesso Buoneri Sento il motore Eccolo L'ho visto Ho visto il blu Ho visto una macchia blu Eccomi è entrato Brutto lezzo Viecce qua Viecce Viecce Guardalo Guardalo dov'è ragazzi Guardatelo dov'è Vieni qua Vieni qua Vieni qua Scendi giù Scendi giù Scendi giù Shampoo Lo sai che questa È la tua prigione Perché tu da qua Non ce la farai uscire In dieci secondi Vuoi portarli da Da un tuo compagno Ci provo Dieci Nove Otto Ah Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Uno Stop Shampoo Addio Addio Il tuo game Finisce esattamente In questo momento Quinta dal game Finalissima ragazzi Ciccio Contro Ninja Ciccio Contro Ninja Ragazzi Final Ho ancora la possibilità Di trovarlo Regà ma qua c'è dell'acqua Com'è che qui c'è dell'acqua What Regà ma c'è dell'acqua Ma ci sono dei pozzi Con l'acqua Qui Ci sono le pozze Con l'acqua What Ascolta Io voglio rischiare Ascolta Io voglio rischiare Se io esco Mi dai una possibilità Per cercare ciccio Sì 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 fra Ti do Ti do Un minuto intero Un minuto intero Sì va bene Dai fra Però non è giusto Ma hai dato Uno trenta secondi E fra Ma cioè lui Ha buona volontà di uscire Eccolo qua Ninja Eccoti qua Vai Ninja Hai un minuto e quindici Vai Sono entrato È lì È qui 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Fanno un battuto Wow Vieni Vieni Guarda davvero Guardalo come cavolo ha vinto Ma io non so manco Dov'è che sei Vieni al centro Vieni al centro Ti faccio vedere davvero Vai Tutte le volte sei andato qui Guarda davanti alla porta Wow Bravo Passavi davanti alla porta No Un certo punto Ti sei messo qua Vabbè Parto dal No No eri qua Ero qui Ma che Dici Lo giuro No vabbè ragazzi I più schifosi Sei te E Kat Che vi siete nascosti Dietro alla porta ragazzi Cioè vergognoso Vergognoso E per rimettere che siamo arrivati Fino alla fine di questo video Mi raccomando ragazzi Spoliciate Scrivetemi qui sotto Nei commenti Quale altro minigioco Vorreste vedere Su Rocket League Detto ciò ragazzi Mi raccomando Spoliciate E noi ci vediamo Al prossimo minigioco Su Rocket League Salutate ragazzi Ciao belli Ciao belli Ciao belli Ciao belli Ciao belli Grazie a tutti.